Eccoci il Pilon con il tecnico del Pescara che questa volta credo accetti volentieri un pareggio, altre volte il pareggio era stato stretto il Pescara, questa volta direi di no Pilon. Sì, è stata una partita molto difficile contro un avversario che avevo detto che era molto forte, si sono chiusi molto bene, non ci lasciavano lo spazio di giocare, è diventata una partita difficile soprattutto perché hanno dei giocatori che ripartono molto bene in velocità e ci potevano mettere in difficoltà, invece secondo me siamo stati anche bravi ad essere quadrati sul campo, non concedere a loro le ripartenze e abbiamo portato a casa un punto che dà continuità dopo le due vittorie, sette punti, tre partite e va bene così. Rifarebbe la scelta di Macin al posto di Antonucci? Eh ma se l'ho fatta, l'ho fatta con l'angione di causa perché chiaramente Capone non è ancora al 100%, non c'è minutaggio nelle gambe, al massimo può avere mezz'ora, perciò non potevo fare una scelta iniziale così e purtroppo Antonucci ha avuto un problema fisico, non è stato della partita e ho fatto quella scelta per non spostare altri giocatori in altri ruoli, per non modificare l'assetto della squadra e ho fatto questa scelta. E' chiaro che poi alla fine della partita uno diceva, non è andato bene, ma lui ha fatto il massimo di quello che poteva fare, mentre Salerno giocando in Corvallolo aveva fatto molto bene in quella parte lì, stasera un po' meno, però lui ha dato il massimo di quello che poteva dare. Tra i dati positivi della serata, anche il fatto che la difesa non ha preso a gol, questa difesa che con Scognamiglio, con Gravion sta riacquistando grande compattezza e in panchina è tornato anche un certo Ugo Campagnaro. Sì, devo dire che la linea difensiva si è comportata bene, ha fatto il suo lavoro, non era facile contro quegli attaccanti molto veloci e siamo stati bravi a non concedere molto a loro, se non su delle palli inattive loro hanno una grandissima prestanza fisica che sapevamo che potevamo dare in difficoltà, però diciamo che si sono comportati bene. Monachello Del Sole, giocatori che potevano essere di questa partita dall'inizio oppure no, Del Sole ha giocato pochissimi minuti, Monachello no, le chiedo come mai questa scelta, cioè Monachello è un giocatore in partenza e che quindi non la convince appieno o solo scelta tecnica? Sì, è stata una scelta tecnica e basta, non c'entra niente in mercato, sono state delle scelte che ho fatto e basta. Però questo mercato crea comunque anche inconsciamente dei problemi? Beh, speriamo finisca quanto prima perché insomma tutte le volte che vengo qui mi tormentate questo mercato, io proprio non mi interessa niente ma va bene così, fate il vostro lavoro, io faccio il mio, vi rispondo, vediamo cosa succede e poi si vedrà. Io devo convivere con questa cosa, tutti noi allenatori dobbiamo convivere con questo, dobbiamo solo lavorare e basta. Per chiudere, però lei si aspetta qualcosa in entrata fino entro il 31 gennaio? Stiamo lavorando per un attaccante. Il Minello è praticamente del Lecce? Non lo so, me lo dici te. Così sembra da pochi minuti quasi fatta per la società salentina? Non lo so, ne arriverà un altro, vediamo, nessun problema.